In una ciotola capiente metto 300 g di farina, unisco 130 g di burro freddo di frigo tagliato a tocchetti piuttosto piccoli, aggiungo un pizzico di sale, inizio a lavorare con la punta delle dita senza scaldare troppo l'impasto, ottengo un composto sabbioso. A questo punto verso 100 g di zucchero, 2 uova intere a temperatura ambiente e mezza bustina di lievito per dolci. Lavoro velocemente senza scaldare troppo l'impasto, ottengo un panetto uniforme e compatto. Sposto il panetto ottenuto sulla pellicola da cucina, appiattisco leggermente con le mani. Chiudo bene e lascio riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo che l'impasto riposa preparo il ripieno, sbuccio 3 mele di media grandezza. Tagli in quattro parti, rimuovo il tozzolo e taglia piccoli pezzettini. In una padella antiaderente metto una noce di burro. Aggiungo le mele tagliate a cubetti. Unisco un cucchiaio di zucchero di canna, un pochino di cannella in polvere e un cucchiaio di marmellata di mele. Lascio cuocere il tutto a fiamma bassa per circa 10 minuti. Le mele dovranno risultare morbide ma non sfatte. E ora lascio raffreddare per bene. Ho infarinato leggermente il piano da lavoro e il panetto di frolla. Con l'aiuto del mattarello stendo e ottengo una sfoglia spessa circa 2 mm. Con l'aiuto di un coppapasta del diametro di 8 cm incido la sfoglia, ricavo tanti cerchi. Rimuovo l'eccesso di pasta frolla, può essere nuovamente riutilizzata. Spennello con un goccino di acqua un dischetto di frolla. Metto al centro un cucchiaio di mele cotta e senza arrivare ai bordi. Chiudo con l'altro dischetto di frolla, avendo cura di far fuoriuscire tutta l'aria, facendo una leggera pressione ai bordi. Con l'aiuto di un coltello a lama liscia pratico dei piccoli taglietti su tutta la circonferenza del biscotto. A questo punto sollevo con la punta del cortello un pezzettino di pasta e fermo con una leggera pressione. Lascio l'altro lembo di pasta nella sua posizione. Alterno uno piego e l'altro no. Procedo in questo modo con tutti i dischetti di frolla. Ho posizionato i biscotti cuor di mela sulla teglia da forno coperta con carta forno. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per 10-15 minuti. I biscotti devono risultare leggermente dorati. Ora che i biscotti cuor di mela sono cotti lascio raffreddare per bene. A questo punto spolvero di zucchero a velo. Mie carissimi amici questi biscotti cuor di mela fatti in casa è una ricetta facile e golosa. Un guscio di gustosa pasta frolla che racchiude un ripieno goloso. I biscotti cuor di mela sono deliziosi, sani, genuini e irresistibili. Sono perfetti per la colazione, ideali per la merenda o per concludere un pranzo o una cena. Noi ci vediamo prestissimo, ciao a tutti!